Senza allenamenti, ma sempre vicini, non si ferma il lavoro della squadra dei Lupi Football Team, un gruppo speciale, composto da ragazzi con la sindrome di Down. I dirigenti e datori di questo progetto, infatti, hanno continuato a dare il loro sostegno a questi ragazzi speciali, continuando a farli sentire la loro presenza, in attesa di concretizzare il cammino iniziato dei mesi precedenti la pandemia, e culminato con una festa di presentazione alla città, per arrivare pronti ad affrontare, nella prossima stagione sportiva, il loro primo campionato. Abbiamo cercato di impegnarci anche un po' nel sociale con i ragazzi, dedicando loro insieme alle associazioni, ai PD e all'Oltre l'Orizzonte, dedicando loro tantissimo tempo e dandogli proprio dei compiti a casa ben specifici da fare, tipo le bandiere, hanno realizzato dei disegni, hanno realizzato proprio fatto apposta per tenerli impegnati in questo periodo. Tutta la parte organizzativa, l'iscrizione al CONI, l'iscrizione alla FGC, grazie al dottor Lapalma, comunque non si è mai fermata e continua ad andare avanti, questo proprio perché vogliamo mandare il messaggio che non siamo degli avventuriati, un circolo privato. Ci segue proprio un dottore commercialista specifico, che la prossima volta avrò il piacere di presentarvi, dove con l'iscrizione al CONI, alla FGC e a tutti gli enti preposti che dobbiamo avere. Abbiamo dato dei compiti ai ragazzi per farli sentire ancora più partecipi della nostra squadra, facendoli disegnare appunto una bandiera con il simbolo proprio, il logo dei lupi. I ragazzi sono impegnati tanto, oltre alle tantissime videochiamate che ci facciamo durante il giorno, oltre questo noi siamo stati molto vicini anche alle famiglie, perché appunto noi non siamo un ASD, ma il nostro messaggio è quello che vogliamo far passare anche alle famiglie, è quello proprio di creare una famiglia.